È in assoluto la maratona che muove più gente e più atleti in tutta Italia. Tra atleti, famiglie, padovani, turisti, volontari e curiosi, la Padova Marathon, che il 22 aprile vivrà l'edizione numero 19 a numeri da record. È la festa della città di Padova perché attorno a 25.000 persone che correranno c'è la cultura, c'è il turismo, c'è il coinvolgimento delle scuole, c'è tutto. La maratona è una festa della città anche attraverso un fitto calendario di eventi e iniziative che mirano a valorizzare arte, storia, cucina, musica, ambiente di Padova e del suo territorio. Sarà una due giorni molto intensa e mi piace ricordare il fatto che il sabato ci sarà un concerto dell'OPV al Papa Luciani proprio per dimostrare la vicinanza anche di tutti i maratoneti al mondo della disabilità. Oltre a maratona e mezza maratona ci sono poi le strade cittadine, corse da 1, 5 e 10 chilometri. La novità è una medaglia di partecipazione per tutti e poi un concorso per le scuole, visite guidate alla città, una nuova scarpa tecnica studiata dalla scuola di design della calzatura. Una manifestazione impegnativa anche sotto l'aspetto economico, ma le risorse e la sensibilità di aziende e volontari non mancano. Senza gli sponsor, senza APS, senza East Energy, senza Ali, senza tutti questi sponsor probabilmente non si potrebbero fare questi eventi di questo genere qui. Ma ancora più fondamentali sono i volontari, ancora più fondamentali sono tutte le persone che staranno nel circuito per transennare il percorso, perché senza di loro non si potrebbe fare la manifestazione. Infine sono previste la Messa al Santo per sabato sera e una serie di iniziative per il risparmio energetico e la solidarietà.